Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 12 dove si segnalano 2 km di code a tratti per lavori tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Rosignano. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnala la chiusura per lavori dell'entrata di Firenze Sud fino alle ore 24 di domenica 12 marzo. In direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Si ricorda che è stato indetto per oggi, mercoledì 8 marzo, uno sciopero generale di 24 ore di tutto il trasporto pubblico. Il servizio di Trenitalia sarà garantito dalle ore 18 alle ore 21. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!